bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata prima di iniziare con la storia di oggi devo fare un piccolo disclaimer non tanto piccolo in realtà perché la storia di oggi sarà davvero orrenda la persona di cui parleremo in questo video farà anzi ha fatto delle cose davvero crudeli a dei bambini mi dispiace per quelli che voi che mi odiano per le mie premesse per i miei disclaimer insomma che faccio prima di iniziare i video ma sappiate che lo faccio solo per rispetto verso tutte quelle persone che non riescono a guardare video come questi in cui ci sono dei bambini e so che queste persone ci sono perché le leggo tra i commenti quindi vi ho avvertiti se questo non è il video che fa per voi tornate al prossimo video non ci sono problemi so anche che anche il video della scorsa settimana è stato su dei bambini e mi dispiace di solito faccio passare del tempo tra un video e l'altro quando riguardano dei bambini ma stavolta è andata così premetto anche che essendo un caso giapponese purtroppo le informazioni che ci sono in giro essendo tradotte da una lingua comunque complessa vengono spesso come si dice lost in translation io non conosco il giapponese dovrei avere sebastiano serafini nel taschino che mi traduca tutto ma purtroppo non ce l'ho quindi nel corso del video vi darò alcune informazioni che ho trovato su alcuni articoli in un modo e su altri in un altro io ve le darò tutte e due ecco questo solo per dirvi che ho fatto del mio meglio dunque il caso di cui parleremo oggi si svolge appunto in giappone un paese in cui non succede mai niente perché dovete sapere che il giappone è uno dei paesi più sicuri al mondo e se lo avete mai visitato lo sapete perché questa cosa si percepisce proprio ma diciamo che le poche cose che succedono valgono per tutte quelle che non succedono messe insieme praticamente questa frase forse non è molto italiana ma avete capito oggi parliamo di un uomo di nome Mamoru Takuma della sua vita e di come finirà col compiere uno dei gesti più spaventosi e vili di cui io abbia mai sentito parlare Mamoru Takuma nasce il 23 novembre del 1963 a Itami nella prefattura di Hyogo in Giappone della sua infanzia si sa poco e quel poco che si sa fa venire la pelle d'oca si sa per esempio che all'età di tre anni Mamoru in sella al suo triciclo si è piazzato in mezzo ad una strada e nell'articolo che ho letto c'è proprio scritto che si è messo in mezzo ad un'autostrada causando un ingorgo immenso ora non capisco come abbia fatto un bambino di tre anni sul suo triciclo ad arrivare in mezzo ad un'autostrada onestamente ho così tante domande riguardo questa situazione ma ho paura che rimarranno tutte senza risposta crescendo Mamoru è sempre più solitario e asociale e già da una giovanissima età inizia a mostrare segni di zoo sadismo che sarebbe quando provi piacere nel fare del male agli animali e come ormai tutti nella community del true crime sappiamo divertirsi facendo del male agli animali è il primo campanello d'allarme nella vita di un possibile futuro serial killer Mamoru pare che si divertisse nel prendere dei gatti avvolgerli in della carta di giornale per poi dargli fuoco solo per vedere che cosa sarebbe successo cosa pensavi sarebbe successo Mamoru anche a scuola le cose non filano lisce per lui infatti si ritrova spesso ad essere sia vittima di bullismo sia un bullo a sua volta cioè praticamente veniva bullizzato da studenti più grandi di lui e a sua volta lui quindi bullizzava studenti più piccoli e più deboli di lui e il suo odio e la sua rabbia erano orientati prevalentemente verso i suoi compagni più benestanti cioè che avevano le famiglie più ricche e questa è una cosa che sviluppa questa età e che si porterà dietro per tutta la vita l'invidia bruciante per le persone più ricche di lui alle superiori i suoi problemi non fanno che peggiorare al secondo anno per esempio aggredisce fisicamente un professore e questo fa arrabbiare non poco suo padre e qua ho trovato informazioni contrastanti come vi accennavo all'inizio alcune fonti dicono che a questo punto Mamoru decide di scappare di casa per qualche mese altre fonti invece sostengono che sia stato proprio suo padre a sbatterlo fuori di casa per qualche mese in ogni caso il rapporto con suo padre non è dei migliori l'uomo infatti era abusante e molto violento sia con sua moglie la mamma di Mamoru sia con lui con suo figlio mentre sua madre non aveva nessun problema nel fargli sapere ogni volta che ne aveva l'occasione quanto lo detestasse e quanto avrebbe voluto non farlo mai nascere e per questo nel periodo dell'allattamento quando Mamoru era piccolissimo pensate che faceva cose come negargli il latte per lunghi periodi di tempo sappiamo anche che Mamoru aveva un fratello anche se di lui non si sa assolutamente nulla suo padre ad un certo punto tenta anche di farlo internare in una struttura psichiatrica convinto che Mamoru avesse seriamente bisogno di aiuto ma per qualche motivo la struttura in questione si rifiuta di internarlo perché secondo loro non necessitava delle loro cure cioè non era abbastanza malato per essere ricoverato lì di conseguenza il padre di Mamoru capendo che suo figlio avrebbe solo creato problemi su problemi per tutta la vita e sarebbe solo peggiorato decide di lavarsene le mani decide che non voleva più quella responsabilità sulle spalle e quindi lo disconosce inutile dirvi che Mamoru odia suo padre con tutte le sue forze e dichiarerà in seguito che per tutti gli anni in cui ha vissuto insieme a lui ha seriamente considerato l'opzione di pugnalarlo e ucciderlo nel sonno Mamoru a questo punto inizia a lavorare in un benzinaio per qualche mese e alla fine del 1981 appena compiuti 18 anni si arruola nelle forze di autodifesa aerea giapponese che sarebbe l'aeronautica militare praticamente ma la sua carriera militare dura davvero pochissimo perché solo nel gennaio del 1983 quindi un anno scarso dopo essersi arruolato viene congedato perché beccato ad avere rapporti con una minorenne dopo il suo congedo però Mamoru non ha molta scelta che tornare a casa da suo padre che come potrete immaginare non è molto contento della cosa e pare che a seguito di questo i due abbiano avuto un litigio così pesante che suo padre gli aveva iniziato a tirare contro delle pietre per vendicarsi Mamoru minaccia suo padre promettendogli che presto sarebbe entrato nella yakuza che sarebbe la mafia giapponese così da rovinargli completamente la vita e così da ottenere la vendetta che cercava nel 1984 la madre di Mamoru decide di lasciare suo marito e di andare via di casa stanca dei continui abusi si trasferisce in un appartamento insieme a Mamoru che si trasferisce con lei però di nascosto dal padre rimangono in questo appartamento soltanto per un anno e mezzo prima che il padre scoprisse dove si trovavano e costringesse sua moglie a tornare a vivere con lui lo stesso anno sempre nel 1984 Mamoru si mette nuovamente nei guai guai sempre più gravi stavolta aveva aggredito una donna e le aveva fatto violenza e per questo viene arrestato e condannato a tre anni in prigione e questi anni di prigione non giovano affatto al nostro Mamoru perché quando esce la sua situazione non migliora uscito di galera si trasferisce ad Ikeda una città nella prefattura di Osaka sempre in Giappone e inizia a lavorare come autista di un autobus e come Netturbino continua ad essere la persona solitaria e asociale che era sempre stato e questo è anche il modo in cui lo descrivono i suoi colleghi una persona che non parlava molto ma che a volte poteva essere molto scortese non amava rapportarsi col pubblico e a volte appunto era stato molto maleducato con le persone a dir poco maleducato perché nel 1998 all'età di 35 anni Mamoru aggredisce un passeggero dell'autobus che stava guidando di cui lui era l'autista a causa del profumo che indossava cioè praticamente era salita una donna sull'autobus e si era seduta nei sedili davanti quelli vicino all'autista ma il suo profumo a quanto pare dava così tanto fastidio a Mamoru che lui le aveva urlato di mettersi al fondo dell'autobus ma la donna diciamo che lo manda a quel paese si rifiuta di fare quello che le è stato chiesto e questo fa perdere la testa a Mamoru che la aggredisce fisicamente le salta addosso chiaramente a seguito di questo diciamo incidente se vogliamo chiamarlo così viene licenziato nel frattempo dovete sapere che Mamoru aveva anche avuto ben tre matrimoni tutti falliti ovviamente a causa della sua natura violenta e del suo bisogno di controllare l'altra persona e a questo punto della storia aveva rotto con la sua terza moglie e questo matrimonio era durato solamente nove mesi chiaramente la moglie voleva il divorzio ma la cosa non andava giù a Mamoru che quando capisce di non riuscire a farle cambiare idea decide che se non poteva farle cambiare idea allora l'avrebbe uccisa per fortuna non ci riesce sua moglie riesce a scappare da lui ed era così spaventata da non riuscire neanche a denunciarlo praticamente decide di nascondersi e di rimanere il più lontano possibile da lui ma lui non si dà per vinto non poteva permettere che lei riuscisse a scappare da lui non poteva permettere che lei andasse avanti con la sua vita senza di lui di conseguenza assume un investigatore privato per trovarla fortunatamente neanche l'investigatore privato riesce nel suo intento e quando Mamoru capisce che non aveva più nessun potere su quella donna che appunto era scappata chissà dove la cosa lo fa cadere in una profonda depressione in questo periodo Mamoru trova un nuovo lavoro come manutentore in una scuola elementare la scuola elementare di Itami e anche qui amici purtroppo non passa molto tempo prima che Mamoru esibisca qualche atto di violenza come era suo solito fare il 3 marzo del 1999 infatti scioglie una sostanza un forte tranquillante nella brocca del tè che veniva servito nella sala insegnanti mandando all'ospedale ben quattro persone quando scoprono che Mamoru era responsabile di tale gesto e gli chiedono spiegazioni lui risponde così gli insegnanti mi ignoravano e le cose con la mia famiglia non andavano bene volevo alleviare la mia rabbia causata dalle relazioni umane mia moglie voleva il divorzio e non andavo d'accordo con i miei colleghi non avevo nulla contro quei quattro insegnanti finiti all'ospedale volevo solo alleviare il mio stress ok mi sembra un'ottima reazione Mamoru totalmente proporzionata e razionale per questa cosa Mamoru viene arrestato ma il giudice lo dichiara incapace di intendere di volere di conseguenza incapace di sostenere un processo e incapace di essere responsabile penalmente delle sue azioni quindi invece di finire in carcere viene ricoverato in un istituto psichiatrico finalmente in cui gli viene diagnosticata la schizofrenia nel corso del periodo che passa in questa struttura Mamoru tenta di togliersi la vita diverse volte ma questi tentativi vengono sempre sventati dagli operatori prima ancora che accadessero come per esempio una volta Mamoru aveva tentato di gettarsi dal tetto dell'edificio ma gli operatori erano arrivati giusto in tempo per prenderlo e riportarlo nella sua stanza e nonostante questi tentativi nonostante la sua malattia per qualche motivo dopo soli 40 giorni di trattamento viene giudicato in grado di prendersi cura di sé e viene rilasciato chiaramente però una volta rilasciato i suoi comportamenti bizzarri continuano per esempio inizia ad andare in giro e a raccontare di essere un sopravvissuto del disastro aereo 123 il volo 123 è un aereo che il 12 agosto del 1985 era partito dall'aeroporto di Aneda a Tokyo ed era diretto all'aeroporto di Itami a Osaka e solo 12 minuti dopo il decollo è tragicamente precipitato uccidendo 520 persone delle 524 che c'erano a bordo ebbene sì quattro persone erano sopravvissute a questo terribile disastro aereo che tra l'altro se leggete sulla pagina di wikipedia è ben documentato cioè è documentato minuto per minuto per tutti i 12 minuti fino all'impatto e ho letto il tutto trattenendo il fiato perché è davvero spaventoso non ci sono altre parole fa venire i brividi comunque le quattro persone che sono miracolosamente riuscite a sopravvivere a questo incidente prima di tutto erano sedute nel lato sinistro dell'aereo e più o meno a metà se vi conosco so che ve lo stavate chiedendo ma soprattutto erano tutte e quattro donne quindi tutto ciò per dire che Mamoru non è ovviamente mai stato un sopravvissuto del disastro aereo Mamoru continua anche a compiere reati minori come per esempio siamo sempre nell'anno 1999 si introduce in un'abitazione privata e per questo viene arrestato ma poi subito dopo rilasciato perché per qualche motivo le accuse contro di lui vengono ritirate o magari il padrone di casa aveva deciso di non denunciarlo non è molto chiaro comunque fatto sta che a Mamoru non succede nulla nel 2000 invece trova lavoro come tassista e ad un certo punto si ritrova a guidare l'auto in contromano in una grossa strada facendo ciò passa davanti ad un hotel e l'addetto al parcheggio dell'hotel vedendolo si mette ad urlare contro di lui nel senso gli urla avvertendolo del fatto che stesse guidando in contromano di tutta risposta Mamoru ferma il taxi scende dalla vettura e tira una testata sul naso dell'uomo che aveva osato urlargli contro e per questo viene denunciato ma un mese prima del processo Mamoru cade nuovamente in una profonda depressione e decide lui stesso di farsi ricoverare di nuovo in una struttura psichiatrica ma purtroppo rimane una sola notte in questa struttura prima di farsi dimettere solo il giorno dopo senza ricevere nessun trattamento a questo punto Mamoru si ritrova senza un lavoro la sua situazione finanziaria era piuttosto tragica e non sapeva come andare avanti questo lo porta nuovamente a tentare di togliersi la vita più e più volte ma senza mai riuscirci fino in fondo ed è proprio a questo punto che a Mamoru viene un'idea inizia a pensare che dato che non riusciva a togliersi la vita dato che in un certo senso era costretto a vivere allora avrebbe commesso un reato un crimine ma un crimine grosso non come quelli che aveva commesso fino a quel momento avrebbe ucciso una persona e questo pensiero è la prima cosa dopo tanto tempo a farlo sentire bene più pensava ad uccidere qualcuno più si sentiva forte di conseguenza il pensiero inizia ad evolversi forse se avesse ucciso più di una persona si sarebbe sentito ancora più forte Mamoru inizia a leggere molti libri libri di legge ma anche libri di psicologia che parlavano delle varie malattie mentali e questo come ammetterà lui stesso in seguito perché era convinto che una volta commesso il suo crimine avrebbe usato come scusa l'infermità mentale convinto che così sarebbe anche riuscito a farla franca il 9 giugno del 2001 doveva presentarsi in tribunale per l'udienza sapete per aver aggredito l'addetto al parcheggio dell'hotel ma Mamoru non si presenta a altri piani per quella giornata dopo essersi tinto i capelli biondo platino e aver indossato una giacca invernale nonostante fosse giugno in Giappone quindi con un caldo umido incredibile alle 9 e 40 del mattino Mamoru esce di casa e guida fino alla scuola elementare di Ikeda a circa 6 chilometri da casa sua nella sua auto c'erano un'accetta e tutta una serie di coltelli da cucina alle 10 e un quarto Mamoru entra nella scuola impugnando un coltello con la lama lunga 15 centimetri sale al piano superiore ed entra in un'aula in cui si trovava una classe di seconda elementare che aveva appena finito una lezione di musica e prima ancora che l'insegnante o i bambini riuscissero a capire chi fosse quell'uomo che cosa volesse Mamoru si fionda su un gruppo di bambini che si trovavano in piedi davanti alla lavagna e inizia a pugnalarli colpendone tre immediatamente si crea il panico colpendo bambini totalmente a caso successivamente Mamoru rientra nell'aula da cui era appena uscito e passando dalla finestra entra nell'aula a fianco in cui colpisce altri otto bambini sempre di seconda elementare quindi parliamo di bambini che avevano circa sette otto anni anche qui i bambini iniziano ad urlare e a correre nei corridoi inseguiti da Mamoru che continua a colpire chiunque si trovasse davanti a lui si avvicina anche all'insegnante una donna che terrorizzata gli lancia contro una sedia ma Mamoru le salta addosso e colpisce anche lei con il coltello da cucina che teneva in mano Mamoru continua questo massacro entra in un'aula dopo l'altra e allo stesso modo senza alcuna esitazione aggredisce altri bambini qualcuno successivamente racconta che Mamoru fosse come in trans mugugnava qualcosa di incomprensibile mentre si spostava di classe in classe e aveva lo sguardo perso nel vuoto nel frattempo il preside della scuola aveva chiamato le autorità e insieme ad altri insegnanti avevano tentato di far raggruppare tutti i bambini nel cortile della scuola per allontanarli dall'aggressore era uno scenario raccapricciante amici gli insegnanti erano coperti di sangue c'erano bambini sdraiati a terra nei corridoi alcuni senza vita altri che strisciavano feriti tentando di mettersi in salvo Mamoru viene finalmente fermato da due insegnanti che con tutte le loro forze tentano di disarmarlo e di immobilizzarlo al suolo Mamoru scalcia si dimena e riesce anche a ferirli entrambi ma fortunatamente i due insegnanti riescono nel loro intento riescono a fermarlo quando le autorità arrivano sulla scena trovano Mamoru in uno stato confusionale che ripeteva continuamente una frase che era completamente senza senso diceva io sono andato alla scuola elementare e poi però diceva io sono andato alla fermata del treno e ho colpito cento persone col mio coltello non sono andato alla scuola elementare e poi ha aggiunto anche mi sarei tolto la vita felicemente ma questo avrebbe reso tutti troppo felici allora ho deciso di uccidere un mucchio di bambini così da essere giustiziato in questo brutale massacro di massa durato non più di 10 minuti Mamoru aveva ferito gravemente tra insegnanti 13 bambini e purtroppo aveva tolto la vita ad altri 8 8 bambini di cui 7 bambine femmine e un bambino maschio tutti tra i 7 e gli 8 anni d'età avevano ingiustamente perso la vita la notizia dell'accaduto ovviamente viene trasmessa su tutti i telegiornali e si diffonde molto velocemente perché come vi accennavo questo genere di cose in giappone non succedono quindi il popolo era profondamente turbato da tutto ciò quel giorno tutte le scuole sono state chiuse in anticipo e i bambini sono stati lasciati andare a casa dalle loro famiglie ovviamente tutti scortati nel frattempo le autorità avevano ovviamente arrestato Mamoru e avevano iniziato ad interrogarlo Mamoru gli spiega che quella mattina aveva preso una dose elevatissima di medicinali psichiatrici a lui prescritti pare abbia preso una dose 10 volte superiore a quella prevista o almeno questo è quello che diceva lui e continuava anche a sostenere di essere andato alla stazione dei treni e di aver ucciso delle persone lì e non alla scuola elementare cosa ovviamente non veritiera e questa non era l'unica cosa ad essere lontana dalla verità perché dalle analisi che sono state effettuate su di lui subito dopo viene fuori che non solo non aveva assunto quella dose spropositata di medicinali come aveva detto lui il medico non trova proprio nessuna traccia di medicinali nel suo corpo quindi non aveva preso nulla e più le autorità indagavano su questo crimine più scoprivano cose cose che non erano come Mamoru voleva che sembrassero quando perquisiscono suo appartamento per esempio trovano tutti quei libri ricordate tutti i libri sulle malattie mentali e sulle leggi insomma sulla costituzione giapponese e a quanto pare Mamoru aveva proprio messo dei segnalibri in alcune pagine specifiche e in quelle pagine guarda un po' si parlava di incidenti o crimini perpetrati da persone con malattie mentali era chiaro quindi che Mamoru aveva studiato quei casi ed era chiaro che avesse premeditato la strage Mamoru viene esaminato da uno psichiatra che nega la precedente diagnosi che gli era stata fatta vi ricordate gli era stata diagnosticata la schizofrenia ad un certo punto beh questo psichiatra invece sosteneva che non fosse schizofrenico ma che soffrisse invece del disturbo paranoide della personalità del disturbo borderline della personalità e del disturbo antisociale della personalità qualche giorno dopo dalla tragedia alla scuola elementare i media giapponesi vanno a casa del padre di Mamoru per intervistarlo suo padre non apre la porta ai giornalisti ma accetta comunque di rispondere alle loro domande attraverso la porta e senza mostrare il suo volto e gli racconta di come molti anni prima aveva cercato aiuto per suo figlio di quando aveva tentato di farlo ricoverare in una struttura ma gli avevano risposto che i suoi problemi non erano abbastanza gravi un po' come dire non è colpa mia io ci ho provato racconta anche di non avere più rapporti con lui da molto tempo e di averlo visto solo un paio di volte negli ultimi anni entrambe le volte Mamoru gli aveva chiesto dei soldi e lui aveva rifiutato di dargliene i giornalisti gli chiedono se si sentisse responsabile delle azioni del figlio al che lui risponde testuali parole come potrei essere io il responsabile questa è una domanda difficile non so cosa dire dovrei dire che mi dispiace se dicessi che mi dispiace qualcuno potrebbe darmi la colpa la famiglia di Mamoru comunque a questo punto si era ormai sgretolata completamente da molto tempo prima della tragedia sua madre era stata ricoverata in un istituto psichiatrico suo fratello vi ricordate che aveva un fratello a quanto pare si era tolto la vita mentre invece suo padre era caduto in una profonda depressione infatti dichiara pubblicamente di desiderare la morte di suo figlio Mamoru o in alternativa desiderava togliersi lui stesso la vita al processo Mamoru offre le sue scuse alle famiglie delle vittime e si dichiara colpevole di tutte le accuse dichiarando di voler fare ammenda accettando la pena capitale che in realtà era quello che aveva sempre voluto quindi chiaramente le sue scuse non erano affatto sincere infatti questo viene confermato dall'atteggiamento che ha assunto per tutta la durata del processo ha mantenuto un'espressione strafottente per tutto il tempo non mostrando neanche un briciolo di rimorso ma non solo faceva cose come sbadigliare rumorosamente o fissare con aria di sfida i membri delle famiglie di quei poveri bambini i suoi avvocati quindi chiedono di poter interrompere tutto e di poter avere tre mesi in cui avrebbero fatto analizzare di nuovo Mamoru da altri psichiatri per avere la conferma definitiva che fosse abbastanza sano di mente per sostenere il processo questa cosa viene concessa e alla fine dei tre mesi gli psichiatri che hanno effettuato la valutazione la perizia insomma determinano che nonostante Mamoru soffrisse di diversi disturbi mentali e su questo penso che siamo tutti allineati nonostante questo era assolutamente in grado di comprendere cosa fosse giusto da cosa fosse sbagliato di conseguenza era in grado di sostenere il processo il processo quindi riprende e nel maggio del 2002 l'accusa richiede la pena di morte contro Mamoru due settimane dopo in risposta a questa richiesta Mamoru scrive una nota che il suo avvocato quindi la difesa legge in aula sulla nota c'era scritto qualcosa che fa venire veramente i brividi di rabbia perché non riesco a non mettermi nei panni dei genitori di quei poveri bambini che erano presenti in tribunale per aver consapevolmente ucciso l'elite del futuro verrò ucciso dalla nazione lo trovo soddisfacente almeno non morirò in modo inaspettato almeno non morirò venendo pugnalato con un coltello e questo suo comportamento come anticipato prima durerà per tutto il processo lancia frecciatine contro le vittime frecciatine contro le famiglie delle vittime ma non solo fa anche svariati commenti tra l'altro totalmente a caso di natura razzista contro le persone coreane che vivevano in giappone o commenti fortemente misogini contro le donne durante un'udienza l'accusa gli chiede se per caso durante la strage avesse aggredito apposta un numero maggiore di bambine di sesso femminile dato che sette delle otto vittime appunto che avevano perso la vita erano femmine al che lui risponde no non l'ho fatto di proposito ma magari era nel mio inconscio perché dopo tutto anche le bambine un giorno diventano delle donne adulte la difesa gli chiede infine chi lo avesse influenzato nel corso della sua vita ad odiare così tanto le donne ma mamoru non risponde a questa domanda anzi pare incupirsi durante il processo si parla del fatto che mamoru era cresciuto guardando suo padre che picchiava ripetutamente sua madre tanto che ad un certo punto una volta diventato grande aveva iniziato anche lui ad essere violento nei confronti di sua madre mamoru su questo commenta dicendo che praticamente picchiava sua madre perché era colpa sua di tutto era colpa sua perché lo aveva fatto nascere o perché il suo corpo era diventato com'era insomma incolpava lei di tutti i suoi problemi e di tutta la sua esistenza e ad un certo punto mamoru parlando alla corte spiega addirittura che l'unica cosa di cui si pentiva era di non aver ucciso ancora più bambini dichiara che avrebbe potuto ucciderne di più se solo fosse andato in un asilo e se solo si fosse portato dietro della benzina invece che dei coltelli e a questo punto mamoru spiega anche perché aveva scelto proprio quella scuola elementare fino a quel momento tutti pensavano che fosse stata una scelta abbastanza casuale così come le sue azioni e le sue parole ma in realtà un motivo c'era i bambini che andavano a scuola lì erano figli di persone molto ricche era una scuola molto esclusiva e qui torniamo a quella sua invidia feroce nei confronti delle persone agiate che aveva mostrato fin da una giovane età vi ricordate dichiara testuali parole aveva una varietà di ragioni per scegliere proprio quella scuola elementare una di queste è che volevo che la gente sapesse che anche i figli delle famiglie benestanti possono essere uccisi in 5 o 6 secondi infine il 28 agosto del 2003 dopo un processo durato 20 mesi mamoru takuma viene condannato ma prima che il giudice emanasse la sentenza mamoru chiede di poter dire un'ultima cosa come se non avesse già detto abbastanza le sue parole sono fatemi dire un'ultima cosa tanto morirò comunque ma il giudice gli nega la possibilità di dire quest'ultima cosa e anzi ordina alle guardie di rimuoverlo dall'aula e mentre veniva trascinato fuori fino all'ultimo mamoru ha urlato oscenità rivolgendosi alle famiglie delle vittime presenti dopo averlo rimosso dall'aula il giudice procede ed emana la sentenza anche se l'imputato non era presente mamoru takuma viene condannato alla pena di morte l'avvocato di mamoru dichiara di volersi appellare contro la pena di morte del suo cliente ma mamoru dice chiaramente che non è d'accordo e rifiuterà qualsiasi tentativo di appello da parte del suo avvocato lui voleva morire in modo facile veloce e indolore e la pena di morte era perfetta per il suo scopo ma l'orrore non finisce qua amici perché circa un mese dopo aver ricevuto la sua sentenza mamoru inizia a ricevere delle lettere lettere da parte di una donna sì amici già sapete cosa sto per dire purtroppo questa donna era incuriosita da lui voleva conoscerlo meglio voleva sapere come mai fosse così tanto carico di odio ma l'unico modo per incontrarlo a quanto pare era quello di sposarlo e il motivo suppongo sia che insomma ho letto che in giappone i detenuti che sono nel braccio della morte vengono tenuti estremamente isolati da tutti anche dagli altri detenuti quindi suppongo che non gli sia neanche concesso di ricevere delle visite questa però è una mia supposizione se qualcuno di voi ne sa di più ovviamente è liberissimo nonché invitato a scriverlo nei commenti comunque da quello che ho capito non gli era concesso di fare nulla ma a quanto pare di sposarsi sì quindi dopo mesi passati a scambiarsi lettere lo fanno decidono di sposarsi in carcere questa donna di cui non ho trovato il nome descrive mamoru come un bambino molto molto immaturo che ogni tanto parlava dei suoi crimini dei crimini che aveva commesso ma il più delle volte diceva cose senza senso un matrimonio invidiabile insomma mamoru infine viene giustiziato il 14 settembre del 2004 solo un anno dopo la sentenza cosa che in giappone non è affatto comune solitamente in giappone i detenuti condannati a morte rimangono moltissimi anni nel braccio della morte prima di essere effettivamente giustiziati spesso ci rimangono per decenni e inoltre una cosa che secondo me è interessante sapere è che a quanto pare in giappone il giorno esatto dell'esecuzione viene tenuto un segreto sia al pubblico sia al detenuto stesso cosa che trovo veramente terribile immaginate tu stai lì ad aspettare isolato da tutti in questa cella senza finestra in cui il tempo si confonde e magari domani sarà il giorno in cui morirai magari no magari sarà dopo domani o magari tra dieci anni e così è stato per mamoru il 14 settembre si erano presentate alla sua cella e gli avevano detto è arrivato il momento così gli hanno concesso un'ultima sigaretta un ultimo succo di frutta e poi è stato bendato gli è stato legato il cappio intorno al collo ed è stato giustiziato per impiccagione tutti i bambini sopravvissuti alla strage purtroppo continuano a soffrire ancora oggi di sindrome da stress post traumatica e continueranno a pagare per molto tempo a causa delle azioni di mamoru takuma questa storia è davvero brutta difficile da raccontare quindi non penso ci sia bisogno di aggiungere altro amici quindi queste erano tutte le informazioni che avevo su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già e come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao